Te hai sempre fatto una scelta, no al franchising, giusto? Sì, ho sempre fatto questa scelta e paradossalmente ho fatto un video anche oggi che lo ridicevo. Cioè ogni singolo negozio è comunque di tua proprietà. Sono l'unico proprietario in tutta Italia, tranne i due nuovi che abbiamo aperto ora col gruppo per cassi, di cui abbiamo però la Joy Inventor per l'Europa. Sì, sì. Però c'è l'Italia è tutta mia, come l'America è tutta mia e di Joy. Ma c'è un motivo per questa scelta? Cioè perché? Allora, ti dico la verità. Ma comunque il franchising... No, 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 ma infatti, guarda, oggi ho fatto un video veramente, passano i temi banali, elementari, dove però volevo spiegare in pochissimi secondi, cioè del perché. E perché oggi penso sia la scelta giusta sull'Italia e sull'America. Tralasciando tutto, il franchising è un acceleratore pazzesco. Però quello che ha bisogno oggi, secondo me, l'antivinaio non è di un acceleratore, perché è brutto da dire, non è, passatemi il termine, non è per svilire la cosa del franchising, però se io voglio aprire dieci negozi, cioè i capitali li abbiamo, quindi non abbiamo bisogno di ricorrere al franchising. Se vogliamo aprire, apriamo. E questo è un discorso che con Giù l'abbiamo anche affrontato di recente, perché anche lì, se l'America è grande, non è l'Italia, quindi quando comincio a dire ne apro dieci, comincia ad essere soldini da investire. Però si è sempre detto, pian piano, senza furie, ma facciamolo noi. Poi, pian piano si guarda, se poi arriverà quel giorno, come ho detto stamani, fatidico, dove tu dici, ok, è arrivato il momento di fare franchising, perché? Perché secondo noi abbiamo realmente trovato la quadra per far sì che non uno dei nostri, ma un esterno, proceda a portare avanti il brand. Io oggi ci tengo ad averli tutti miei, ma non perché voglio che ci sia sempre domani. Tommaso c'è anche se è franchising, se ci pensi bene. Ma proprio per voglio avere tutto sotto mano, voglio avere tutto sotto controllo. Se apro decido io dove, quando, perché. E questo per me è importante. Poi, come ho detto stamani, sicuramente arriverà un domani il franchising, perché poi, chiaramente, se a oggi ti dicono apri 100 città è un conto, un domani se sono 10.000, per altri motivi, cioè, ti devi buttare. Però io penso che come linea di business su questa cosa qua, anche se siamo passo passo, per ora bisogna continuare così, perché a sbagliare un attimo. Si quadra che vince non si cambia. Bravo, ma poi, guarda, a sbagliare un attimo, per farsi prendere dalla fuga di, perché non apri 40 negozi in un anno? Ha voglia di te, tu li puoi aprire. Cioè, però, economicamente ti andrebbe da Dio, eh, non è che ti andrebbe male. Però poi saranno gestiti tutti in quella maniera? Saranno formati i ragazzi tutti, come diceva lei prima? La qualità rimane la stessa o no? È quello. Allora, sulla qualità io lo dico sempre. Quello è una cosa... E poi accordi con fornitori e compri grandi quantità. Poi li rispedisci da tutte le parti. A me, quando mi fanno, hai visto a volte... Come fai il prosciutto a farlo trovare in America? Guarda, a volte leggo commenti, ah, quando uno ingrandisce perde qualità, ma se male è l'incotrario. Cioè, è totalmente potere economico, a cui... Bravvero. Tu sei te che tu blindi. Puoi mettere il tartufo nella focaccia, come hai grattato ieri. Cioè, ma non sai se io, venti anni fa, io grattavo il tartufo in quella maniera, in babbo di Obama, mi diceva... Si chiude. Perché secondo me tante persone più crescono e più diventano avidi, avari e vanno a... No, allora, però, allora, aspetta. Tagliano vagi. Però allora, aspetta. Allora lì... Cercano il profitto a tutti i costi dopo. Però bravo, allora lì si fa nel profitto. Sì, chiaro. Cioè, io l'ho sempre detto, a me dei soldi non me ne frega. Cioè, per l'altro, sono importantissimi. Ho un'azienda che è verde, verdissima, ma non me ne frega nulla dei profitti, nel senso, quello che è il bene dell'antivinaio si porta tutto a casa. Cioè, questo è importante. Sì, poi sono una conseguenza... No, ma deve essere proprio anche questa, perché se tu fai in modo che l'antivinaio sia solo profitto e incominci a tagliare... La gente lo percepisce, eh? Poi dopo, man mano, hanno dopo, vanno perdi. Sì, sì, sì. E infatti, c'è... Cosa fai? Io ho sempre detto, cioè, l'antivinaio, se dovesse avere un sogno irrealizzabile della mia vita, vorrei che i miei figli potessero domani continuare. Sarà difficile, impossibile, io questo non lo so. Però, sai, sono i sogni di babbo. C'è vero. Però ti dico la verità. Cioè, per arrivare a quella data, un domani, se tu non sei sincero ora e non fai il bene dell'antivinaio, se guardi solo in profitto non ci arrivi nemmeno a quella data. Perché o vendi prima... È come semini. O tu... Io penso di sì. Penso, eh, ti ripeto, non ho una certezza. Però io penso si stia facendo bene a fare le cose oculate. Cioè, poi, è chiaro, ora uno dice, ah, ne stai aprendo tante, è vero. Però, se pensi che ho avuto due anni quasi di fermo, io ora sto rispingendo sull'acceleratore perché ho avuto un attimo di stop. Mi ricordo... siccome hai citato i fornitori... Sì. E questa è una cosa bella, eh. Guardatelo. Ti faccio un esempio perché è super bello questo. Il mio fornitore è la porchetta. Ok? Che era quello di mio babbo. Cazzo, ma poi lo fai guadagnare un botto, questo fornitore. Cioè, di là di questo fornitore che si gratta la pancia. I fornitori sono gli stessi dei... Molti sono gli stessi. Perché crescendo così tanto te crescono così tanto. Ah, hai capito. Però ho pensato... È una crescita... Lavorazione per lui, eh. Comprali, cazzo. Comprali. Ci ho pensato, poi sto... Sempre col passo passo. Senza cercare di accelerare i tempi. Però quello sicuramente potrebbe essere il futuro. Però per darti questo esempio, guarda, è veramente bello. Quello che mi faceva la porchetta a me prima, cioè che la faceva al mio babbo, c'era questo suo babbo. Ora c'è figlioli con me. Cioè che sono cresciuti anche loro e ora servono a me. Cioè, però, è una crescita di tutti. Per questo ti dico, ancora, è molto più... E guarda, è bella. Cioè, quando vedi crescere, le persone con te, guarda, non c'è cosa più bella. Ecco, è il solito discorso dei collaboratori, eh. Andar là e fagli un ordine e la volta dopo fagliano ancora più grosso, no? E sembra che tu gli stai facendo un favore a loro. Non lo so, ma è bello. Noi abbiamo con i nostri fornitori un legame bellissimo. E poi ora, la fortuna anche, avere questo nome passato di tempo è molto grosso. Cosa è prima non avevi? Ti permette anche, magari ti conosci nuovi fornitori e sono loro che ti adorano, impazziscono. Io ti vorrei servire in tutte le maniere, quindi conosci nuovi legami. Sì, anche perché è pubblicità per loro. Alla fine su Zalume c'è l'etichetta, no? Sì, sì, per loro sì. Sì, sì, sì. Io non sono un amante del fare la pubblicità, ma no, perché proprio non è mai stato il mio. Cioè, io sono più di piacere. se la roba è buona la compro, se c'è solo il nome no. Però, e guarda, in questi ultimi due o tre anni con il fatto dei social network, molte aziende, Tommasi sei influencer. Non mi piace. Che mi dicevano, ma ti pago X se tu mi dai prodotto, ma che che ti ha dato buono? Cioè, ma dove? Cioè, la roba è buona. Se l'è buona io te la pago, perché tu devi se te la riscolto di mia io. Anche questo comunque non è scontato, perché tu magari sei appunto rimasto focalizzato sull'anticovinaio, io sono imprenditore dell'anticovinaio, io mi focalizzo su questo, non cerco poi entrate tramite social secondarie, cosa che magari non tutti... Penso di non aver mai preso un centesimo del social network. Ma non ci pensavi. Non so nemmeno come si fa, perché mi hanno detto che lascia il lagge in giro. Non ci capisco nulla.